Eeeh, bella ragazzi su Kickswilber ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi, ritornati come ogni venerdì all'interno del nostro ufficio In compagnia del nostro Mino, della poltroncina degli acquisti E soprattutto dei televisori falsi Soprattutto farsi e non falsi, mi raccomando Bene ragazzi, oggi ci troviamo qui all'interno del nostro ufficio E sulla poltroncina degli acquisti Indovinate un po' perché, esatto, è uscito un nuovo veicolo E soprattutto vi consiglio di acquistare questo veicolo subito Adesso, non so quanto guarderete questo video, lo trovate su Warstock comunque Vi consiglio di acquistarlo perché è gratis Probabilmente resterà gratis per una settimana Quindi se state guardando questo video entro giovedì 25 febbraio 2021 Probabilmente questo mezzo è gratis E vi consiglio di andarlo a prendere perché comunque sia un veicolo gratis Non si butta mai Stiamo parlando del Verus Verus, veicolo che doveva uscire la scorsa settimana Ma che poi non è uscito Ed è il quad che già comunque sia abbiamo avuto modo di provare All'interno dell'isola di Caio Perico Boh, il prezzo è di 0 dollari Di norma dovrebbe costare 192.000 Però noi lo pigliamo a zero E andiamo a leggere la descrizione di questo veicolo Il Dinka Verus è un quad fuoristrada Estremamente resistente e capace di sopportare Rotolate sui fianchi Testa coda Vorticosi e frontali Follemente catastrofici Naturalmente lo stesso non può dirsi per chi lo guida Che rimane esposto Vale però la pena ricordarsi che ha due posti Quindi è possibile condividere tutti i traumi con un amico Perfetto, non ci piace Condividiamo i traumi Let's go E niente, andiamo ad acquistarlo O meglio, andiamo ad acquistarlo Andiamo a prendercelo Perché è gratis E ce lo facciamo mandare al garage Come al nostro solito Già il fatto che lo possiamo mettere nel garage Come al solito È tutto che è guadagnato Perché significa che possiamo modificarlo E niente, andiamo a sto garage Aspettiamo come sempre che arrivi Ma non prima ragazzi Di avervi ricordato come al solito Di lasciare un bel like Mi raccomando Superiamo assolutissimamente i mille like Se volete altri video di questo tipo Dove andiamo ad acquistare e modificare i veicoli di GTA online Ma soprattutto condividete il video come debatti Su tutti i vostri social E di iscrivervi al canale Per non perdervi i futuri video Se lo fate siete dei grandi Ma ovviamente ve lo devo ricordare di nuovo Cioè, non lo so Più del 60% delle persone che guardano i miei video Non sono iscritte al canale Quindi cosa aspetti? Inscriviti Dai che ti aspetto Vieni, iscriviti Raga dai, basta Non mi fate ripetere sempre le stesse cose Vi volete iscrivere, cortesemente Ribaltiamo sto numero Non è possibile Pubblicità Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GTA online? Bene, contattami su Instagram Link qua sotto nella descrizione Benissimo ragazzi Ed eccoci qui giunti dopo la pubblicità Spero che vi siate iscritti Comunque sia Ecco qui il nostro Dinka Verus E Verus lui ragazzi E' veramente lui qui davanti a noi Allora, a me esteticamente piace Anche abbastanza Mi dà l'aria di essere bello robusto Bello cazzuto, no? Quindi a me non ti spiace affatto Ehm... Ma è elettrico sto robo qua? No, lo chiedo perché non vedo... Non vedo tubo di sca... Ah no, però là c'è il serbatoio Quindi, ok Boh, se andiamo a bordo Ascoltiamo il sound Se è elettrico non parla il rumore Ascoltiamo Ah ok, infatti non è elettrico E dove c'è la... Ah là la marmita C'è anche un marmittone così Manco l'ho visto Andiamo a modificarlo Va, let's go Allora, allora, allora Il mezzo è già blintato di suo Quindi niente armature Freni Li mettiamo al massimo Bulbar Abbiamo bulbar verniciata Oppure ce l'abbiamo Bulbar nera Bulbar nera Ovviamente te l'hai Scatola di munizioni E tanica O scatola di munizioni E basta Beh, io direi di... Di mettere la scatola di munizioni Che almeno c'è Paglia No, è per pari Almeno ci potremmo mettere Un'altra tavola sopra Eh, motori Li mettiamo ovviamente Al massimo Marmita Abbiamo doppia standard Ci sta Doppia in carbonio Ah ok, però solo sul lato Oppure quadrupla in carbonio E ovviamente Greta Thunberg Approved Quadrupla in carbonio Eh, cofani Invece Come cofani? Cioè Vabbè Abbiamo pale piccone Trollei direttamente Abbiamo altre scatole di munizioni Scatola di munizioni etaniche Eh, rete O cassa da... Babba mia Ma non sapete più una mazza No, vabbè Io davanti direi Di mettere solo ed esclusivamente Pale piccone Che possono sempre essere utili E poi è meglio Non avere tanta roba davanti Klaxon Che klaxon ci abbiamo? No Mettiamo quello da camion Dai, let's go Luci, fari All'oxeno ovviamente Kitne... Oh, non c'è il neon Io ho kitneon Librea Abbiamo sempre le classiche livree Quelle là del bunker Sì, esatto Che sono bloccate Mmm, vi dirò Quasi quasi Mi ispira Non chiedetemi il perché Il guerriero della strada Vediamo come riusciamo ad abbinarlo con i colori Ecco Targhe Ovviamente quella personalizzata Ci mancherebbe Verniciatura e colore principale Vediamo Qui teoricamente Ci dovrebbe stare un opaco Oddio Niente male Vi ho la Vi ho la Spin Hacker qua Però mi sa che conviene Mettere un Un opaco Sempre Comunque Su questi mezzi qua Ma io quasi quasi lo lascerei Marrone deserto Cioè È già bello così Quanto il colore è già azzeccato di suo Perché andarlo a cambiare Ecco dico io C'è un verde? Sì c'è verde Potrei farlo verde Ma sì dai Facciamolo verde Ci sta Colore secondario invece Cosa va a pigliare Uh Bella Va a pigliare lì Come Come li possiamo chiamare? I braccetti Non lo so Non mi viene il termine Chiamiamolo braccetto Anche se sicuramente è sbagliato Perché il braccetto dovrebbe essere un altro Però Potrei fare un accostamento Con la livrea Quindi magari metterlo Ma no Ma non mettiamo niente Mettiamo nero E let's go Lasciamo nero Che va a richiamare Anzi Opaco Così va a richiamare pure il Il bull bar anteriore Diciamo Poi tutta l'attrezzatura Che c'è sta sopra Dai Let's go Let's go Let's go Borse Uh Zaino Doppio zaino Addirittura trolley E zaini Allora mi sa che quegli zaini Non fanno una bella fine Perché comunque sia messi lì Si affumicano tutti Poi arriva una scoppiettata Lo bruciamo Però Mettiamo uno doppio zaino Tanto per dire che abbiamo lo zaino Ehm Trasmissioni al massimo Turbo lo mettiamo pure Ruote Tipo di ruote Fuoristrata ovviamente Potremmo mettere quelle ignoranti Di lusso Ma no Preferisco mantenere Il fuoristrata Oppure No no Un bel cerchio cattivello Tipo questo qui Dune basher Ci sta Andata per il Dune basher Tra tutti quelli che ho visto Questo è quello che ci sta di più Colore a questo punto Dovrei metterlo verde Ecco verde scuro Perfetto 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 Verde scuro D'esempio pneumatici Le scrittine cattive Uh ma Ma cambia lo pneumatico Direttamente Guardali che roba Cambia la tassellatura Dello pneumatico Bene Gomma antiproiettile Ovviamente Il fumo Lo mettiamo verde Dai Fumo verde Abbiamo finito con le modifiche Ok Beh a sto punto Portiamolo fuori E proviamolo Che vi devo dire Benissimo ragazzi Ed eccoci qui Con il nostro Dinkaverus Bello che è modificato Allora Devo dire che Nella sua semplicità È veramente molto bello A me piace un po' Cioè Non lo so Mi da senso di poterlo Questo qui lo butto in acqua E cammina Capito Questi quasi provo pure A buttarglielo in acqua Comunque sì A me piace È bello il colore verde Ma aspettavo qualche modifica Magari Non lo so Sul predellino qua Oppure Anche il quadrante Se poteva modificare Sicuramente qualcosa in più Da modificare Potevano metterla Però Va benissimo così Saliamo a bordo Ascoltiamo il sound Una volta modificato Allora Scoppietta Ma non scoppietta Cioè nel senso Se sente l'esplosione Ma Ma non esce la fiammata Quindi 3 2 1 E si parte Let's go Oh mio dio Che scatto Ha ha Eee Vi dirò la verità Sapete che mi sembro uguale Al Allo street blazer Che ho modificato Settimana scorsa Allora si classifica Nei fuoristrada Boh è strana sta cosa Regà Cioè vi potrei dire Che mi ricorda tantissimo Il verus Cioè il verus Lo street blazer Che l'ho modificato Settimana scorsa Mi pare uguale Mi pare uguale Anche a livello di prestazioni Mi pare uguale Vediamo La curva Anche la sterzata Mi pare uguale Qua Porco cane Mi ricorda tantissimo Il blazer Lentling Tutto Allora La velocità massima L'abbiamo più o meno Vista Cioè è quella lì Non è che se può Fa' di più o di meno Eeeh Raga Tiene Tiene di brutto C'ha lo stesso lag Dello street blazer Cioè nel senso Che prima che in bocca La sterzata Cioè metto un po' Però Eeeh Boh le curve Le fa bene Le curve le fa bene Ma ti sbalza via Come se non ci fossero domani Boh ragazzi È un mezzo strano Sapete dove lo porto adesso No? Lo porto proprio lì Esatto Sul monte Ciliad Vediamo se scala Se scala Scala Se non scala Pazienza Ecco però proprio ora Amico mio Tu proprio ora dovevi girà E ora? È problematica La situa qui eh Ah vabbè ok Non tanto Allora esteticamente Bellissimo regà Però Non lo so Mi sa tanto di veicolo Inutile ecco Niente di più E niente di meno È lo street blazer Regà L'entlink è uguale A sto punto che vi devo dire Portiamolo sul monte Ciliad E vediamo se anche in quel caso Mi ricorda lo street blazer Anche se secondo me È data la sua massa Leggermente più Incombrante Potrebbe dare qualche problemino Nel salire no? Ma lo noto già qui Su queste piccole collinette Non è pratico come lo street blazer Vedi qua tipo si incastra Sì ma Ma Com'è possibile Che mi spara Flash a via In questo modo Scusa Boh raga Andiamo al monte Ciliad E prendiamoci Questa bella Delusione Sicuro Perché già lo vedo Che si comporta In modo strano Non ha tutta questa potenza Ecco Però io direi Di effettuare Il test del freno Adesso che finisce Sta discesa qui Quindi ragazzi Andiamo ad effettuare Il test della frenata In 3 2 1 Go Eh Appunto come vi dicevo La massa si fa sentire Frena già molto male Rispetto al Allo street blazer Ma poi che Che cazzo Ma davanti Non era Non era così Eh no Si è appiattito Si è appiattito Così come le cose Che ci stavano sopra Oh mio dio C'è una ruota di fuori Eh vabbè però ragazzi È un toro Oh Ma come è salito Bello Benissimo ragazzi Ed eccoci qui Come al solito Con Davanti il monte Ciliad Oh Ultimamente Incredibile Ma vero Cioè Quasi ogni episodio Siamo qui al monte Ciliad E bom ragazzi Partiamo Vediamo un attimino Come si comporta Questo mezzo Vi ricordo che il blazer Si era comportato Benissimo E questo già A fatica Aranca Qui Siamo in una pendenza Ridicola Cioè oddio ridicola No è una bella pendenza Però Cioè c'ha la faccia Deve cadermi indietro Capito Non è che Si raga È più lento Non so cosa C'è la fama Ma va Ma va troppo piano Cioè questo qui tipo Ecco vedi Guarda 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 Cioè qui il blazer Andava bello che spedito No Provo a fermarmi Vediamo un attimino Se riparte da fermo Ne dubito E infatti Quello invece Ripartiva addirittura Da fermo Dai Dai che ce la puoi fare Dai che ce la puoi fare Niente si gira Una volta che si gira Qua non sale proprio Qui non sale proprio Cioè capisco che è una pendenza Importante Per carità Eh assolutamente Però Ma d'altronde raga Come abbiamo visto Dal test della frenata Che arrivava molto più lungo A causa della sua massa Anche qui Appunto Come ben pensavo La sua massa Lo puniva Per il resto Mi sembro uguale al blazer Velocità massima Sterzata Handling Lentling è uguale Hanno fatto un copia e incolla Dello street blazer Hanno cambiato carrozzeria Finchè è gratis Spigliatelo Lo potete utilizzare Come primo veicolo Ma non appena lo mettono A pagamento 169.000 Io lo sconsiglio Se non magari Per collezione Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sapere Se vi è piaciuto Lasciando un bel like Oggi abbiamo acquistato E modificato Il Dinka Verus Ed è veramente Una delusione Mi aspettavo molto di più Da questo veicolo Ma alla fine Vabbè È un blazer Cavuffato Quindi ragazzi Come al solito Vi ricordo di lasciare un bel like Vi raccomando Superiamo assolutissimamente I mille like Se volete altri video di questo tipo Ma soprattutto Condividete il video Quei ragazzi Su tutti i vostri social E iscrivetevi al canale Per non perdervi i prossimi video Quindi se volete È tutto Bella raga Ciao 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 Ciao